Ben ritrovati, siamo qui in compagnia di Maurizio Stefano Sutti, Head of Sales Strategies B2B di Subito. Maurizio, ciao, bentrovato. Ciao Marcella, grazie per questa opportunità di poter parlare alla platea virtuale e fisica dell'evento di Sinergie. C'è stata una grande energia questa mattina e sono fiero di poter dare qualche messaggio in più ai nostri ascoltatori. Bene, allora Maurizio, entriamo subito nel vivo di questo nostro talk e questo approfondimento parlando un po' del fatto che subito abbia completato l'offerta di visibilità per la gente immobiliare. Ecco, ma come si differenzia rispetto, penso che non sia la prima volta che te lo chiedano, penso che sia abbastanza una domanda alla quale si è abituato a rispondere, però ecco, magari aiuta a capire a chi ci segue che cosa vi differenzia rispetto ai classici portali di annunci immobiliari. Assolutamente, diciamo che ci piace raccontare ai nostri clienti, ci piace pensare che abbiamo qualcosa di veramente diverso da offrire e questa cosa diversa è la nostra audience che è veramente distintiva. Ne parlavamo anche stamattina, la nostra audience è particolarmente pregiata per numeriche, pensate che 2,6 milioni di utenti ci visitano tutti i giorni, ma anche per diversificazione e qualità. Diciamo che attraverso 38 categorie, ben 38 categorie, abbiamo migliaia e migliaia di articoli che ogni giorno vengono scambiati sulla nostra piattaforma, sia che siano essi articoli nuovi, sia che siano articoli usati e per questo ci piace parlare di e-commerce e e-commerce. Questo ci permette che cosa? Di poter offrire dei territori di comunicazione molto molto interessanti a chi vuole investire con noi e diciamo adottare delle soluzioni di marketing attivando diverse leve. Quindi diciamo che questo, unito alla possibilità di offrire queste soluzioni a un livello di investimento assolutamente compatibile rispetto a quelli che sono i portali verticali, ci fa guardare con grande fiducia al 2023 per ottenere gli obiettivi dell'azienda, ma soprattutto per far avere risultati ai nostri clienti, che è una base solita su cui costruire il futuro di tutti. Ecco, cerchiamo di dare qualche suggerimento agli agenti che ci seguono su come mettere a frutto le potenzialità che può offrire subito. Beh, innanzitutto qui dietro di noi c'è l'hashtag presente, non volevo assolutamente mutuarlo a sinergie, però esserci vuol dire poter ottenere un grandissimo vantaggio di prima mossa, poter andare a colpire, a intercettare questi utenti prima ancora che si maturi il bisogno, la necessità, poi ci torniamo, di effettuare una compravendita immobiliare. Le nostre soluzioni variano sotto diversi aspetti. esserci vuol dire intanto pubblicare i propri annunci, abbiamo anche la possibilità di dare più visibilità, più evidenza in piattaforma a quelli che sono le inserzioni. E infine, una cosa molto interessante per il mercato immobiliare, poter targetizzare questi audience in maniera mirata, attraverso dei casi che magari dopo raccontiamo, con quelle che io chiamo delle affissioni digitali. Abbiamo la possibilità di pianificare dell'ADV andando poi a lavorare su quello che è il consolidamento di una leadership territoriale che le nostre agenzie immobiliari già hanno, o per nuove iniziative imprenditoriali andare a costruirlo ex novo, diciamo portare avanti un percorso di crescita. Vuoi fare degli esempi magari, dicevi, su questo aspetto? Sì, diciamo che, permettimi anche di fisicizzare un po' questo tema, noi abbiamo lasciato come gadget per tutti i nostri ospiti, non so se si può vedere anche in telecamera questa lavatrice, avevo chiesto ai miei colleghi di poterne portare una qui veramente enorme e fisica con un carrellino, ma mi hanno detto che non era possibile, questo è un simbolo, ovviamente uno dei tanti simboli che possiamo offrire al mercato, pensate anche alle auto, alle moto, alle ricerche di lavoro, sono tutti, diciamo, comportamenti degli utenti che grazie ai dati ne abbiamo anche parlato, siamo in grado di poter andare a, diciamo, costruire per i nostri clienti e che quindi attraverso le nostre soluzioni siamo in grado di andare ad offrire come territorio di comunicazione. Per essere più specifico, la lavatrice non rappresenta altra che l'esempio di una persona che ha bisogno di sgomberare i locali in attesa di una compravendita immobiliare, quindi noi lo chiamiamo decluttering in azienda. L'auto è sicuramente un momento di svolta nel momento in cui si modifica un assetto familiare, ho bisogno di un'auto più grande perché mi si allarga la famiglia, ho bisogno di un'auto più piccola perché si è modificato un po' quella che è il mio assetto familiare, appunto la moto, il classico esempio di un papà che vende la moto all'arrivo del primo figlio. Infine la ricerca di lavoro, quindi se ho bisogno di andare a cambiare la mia location perché in città cambio posto di lavoro piuttosto che addirittura cambio città, poi andrò successivamente a cercare un alloggio. Tutto questo vuol dire poter anticipare le mosse dei nostri utenti e per i nostri clienti poter essere i primi a presidiare questo percorso di navigazione. Ok, quindi una grande raccolta di informazioni e di dati sui utenti nel vostro portale. Ecco però la gente come fa a posizionarsi nella testa di questi utenti? Ma diciamo che qua si tratta di fare una chiacchierata con i nostri clienti, con i nostri agenti, con le nostre agenzie, capire per bene qual è il bisogno specifico. Io prima ho toccato due, tre punti interessanti per attivare diverse leve di marketing. Sicuramente pubblicare gli annunci è un must, ma anche capire in quali momenti dell'anno, in quali momenti stagionali andare a sponsorizzarli, a dargli più priorità, a dargli più visibilità, con quale tipo di livello geografico, con quale tipo di strumento di advertising andare a colpire quei target di audience che abbiamo un po' citato. Ok, quindi devo dire un'ulteriore specializzazione. Oggi è un po' la parola chiave di sinergia e specializzazione, ma anche per voi una specializzazione ulteriore, cioè nell'offrire strumenti. Sì, guarda, proviamo un po' a unire tutti i puntini dei messaggi che abbiamo lasciato lungo disseminati, lungo queste ore che abbiamo passato insieme. Sicuramente l'audience è la nostra caratteristica distintiva. L'altra caratteristica distintiva è quella di poterla offrire a degli investimenti assolutamente compatibili, a un rapporto qualità-prezzo, fammi dire, eccezionale, con un value for money molto molto interessante. Questo vuol dire per i nostri clienti poter usufruire di tutti questi strumenti in maniera diversificata e completa. Quindi, il suggerimento che diamo a tutti è quello di fare una chiacchierata individuale con i nostri consulenti e di poter trovare insieme qual è la soluzione più completa per poter soddisfare quelli che sono i loro bisogni e ottenere dei risultati. Ok, quindi offrite proprio un servizio, diciamo, ad hoc, a seconda delle esigenze dell'agenzia, dell'agente. Sì, pensa che noi abbiamo ben tre canali di vendita, dai consulenti, diciamo, più qualificati che sono i nostri key account per grandi gruppi o per clienti particolarmente esigenti. Abbiamo anche la possibilità di interloquire telefonicamente e poi, attraverso una rete che è capillare sul territorio, di andare a fare dei colloqui individuali proprio per costruire un programma di visibilità su subito particolarmente efficace e personalizzato. senti, una del, chiamiamolo così, uno dei difetti un po' dei portali immobiliari, un po' uno pubblica l'annuncio nella speranza che gli utenti, l'audience, lo individuino sia nelle prime pagine perlomeno sia visitato, eccetera. Ecco, come si riesce a ottimizzare, a massimizzare questo approccio con subito? Sì, abbiamo parlato prima tanto dei dati, di saperli utilizzare, abbiamo detto che oggi c'è una sovrabbondanza di dati, è importante capire quali selezionare. Sicuramente quello che inizia con noi, i nostri consulenti è un percorso, quindi leggere questi dati ci consente poi anche di intervenire lungo il corso di un anno, che è il tipico periodo di pianificazione, per andare a spingere quei momenti in cui è necessario andare a, diciamo, sponsorizzare maggiormente la propria inserzione. Gli strumenti sono molteplici e quindi diciamo che possiamo andare veramente a colpire nel segno andando a intercettare quegli utenti di cui abbiamo anche già parlato. Siamo stati molto rapidi, Maurizio. Quindi ti faccio una domanda un po' extra, cioè su che cosa vi aspettate dal questo 2023 di cui si parla tanto? Voi cosa vi aspettate? Ma diciamo che l'ottimismo non ci manca, abbiamo alle spalle un grandissimo gruppo che investe in tutta Europa per consolidare la nostra leadership sul mondo dei classified, li chiamano così, a livello di gruppo. E quindi diciamo che gli investimenti sulla piattaforma ci consentono di pensare a degli sviluppi di prodotti molto molto interessanti, mutuando le migliori esperienze dal resto d'Europa. E questo ovviamente è un vantaggio in un mercato che è sempre più globale. Per quanto riguarda l'Italia, sull'immobiliare che è l'argomento di oggi, sicuramente abbiamo grande fiducia perché stiamo vedendo dei dati molto positivi nell'ultimo trimestre in termini di acquisizione di customer base, che ci permette poi di avere anche non solo dei risultati commerciali, quindi investimenti, ma anche la possibilità di offrire maggior contenuto agli utenti e di attivare un volano che è virtuoso a 360 gradi per costruire un ecosistema sempre più efficace e completo. Senti, volevi portare qui una lavatrice, però sono curiosa. Come si è arrivati alla lavatrice? Devo dirti che prima il nostro direttore Sales parlava di saper prima di costruire dei modelli di interpretazione dei dati e avere l'intuizione di dove si vuole arrivare. Ecco, questa è stata un'intuizione da parte del team che ha visto in questa nuova modalità di racconto dei casi d'uso dei nostri utenti la possibilità poi consolidata attraverso l'analisi e attraverso dei sondaggi di offrire uno storytelling particolare. Per questo abbiamo pensato poi di consolidarlo ulteriormente attraverso la produzione di gadget, attraverso questi nostri messaggi. Va bene, allora grazie Maurizio, grazie di questi tuoi spunti. Sicuramente il tema dell'innovazione è un po' un tema che vi coinvolge, che vi caratterizza, quindi grazie. Sono sicura che chi ci ha ascoltato ha saputo trarre sicuramente dei suggerimenti importanti. Assolutamente, grazie a te e arrivederci all'anno prossimo con ulteriori novità a questo punto. Grazie ancora, grazie. Grazie.